Ciao fragoline, nuovo video, continuiamo con i grattevinci. Allora, questa volta ho preso il nuovo grattevinci che è super 7 e mezzo, che è questo qua, praticamente è uguale all'altro, cambia solo il nome in poche parole, e dato che è nuovo, perché c'è scritto anche qua nuovo, ho voluto provarlo. Vediamo se questo grattevinci nuovo porterà fortuna come gli altri che abbiamo vinto i 15 euro, e poi ovviamente ho ripreso il 10 per, che qua c'è scritto nuovo, però secondo me non è nuovo, è uguale all'altro. E niente, questi sono i due grattevinci che ho preso, allora, questo costa 3 euro e questo 2, per cui io, ripeto, non spendo così tanto. Se devo spendere tanto, secondo me conviene prendere due grattevinci, uno da 5, uno da 5 e prendi 10 euro, però sono due, così sai che hai la possibilità di vincere o uno o nell'altro grattevinci. Comunque, prima di iniziare, per vedere se abbiamo vinto, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivando la campanellina, così almeno non vi perdete neanche un video quando escono sul canale. Lasciarmi un like se vi piace questa tipologia di video, ovviamente so che vi piace, e seguirmi su Instagram, lì ci sono gli spoiler, che ho già qua praticamente spoilerato tutti i grattevinci che ho preso in questo mese di agosto. E un commentino qua sotto, scrivetemi quello che volete. Detto questo, passiamo a grattare e vediamo se abbiamo vinto. Allora, io direi di iniziare da 10x e quello nuovo lo lasciamo per ultimo, per cui ho cambiato anche lo sfondo perché secondo me è molto più bello così, faccio un po' di zoom così lo vedete ancora meglio e iniziamo. Allora, i nostri numeri sono 42, 40, 21 e 16. Questi sono i nostri numeri, vediamo se li troviamo. Iniziamo da qui, abbiamo un 17, bene, invece avevamo un 16. Poi un 30, io gratto anche la cifra sotto perché sono sempre curiosa e allora preferisco anche far vedere anche la cifra. Per cui, il 30 non ce l'abbiamo, andiamo avanti con il 20, no, abbiamo il 21, iniziamo bene. Poi il 18, niente. Poi il 43, che abbiamo il 42, sotto 39, allora direi che sono numeri alti per cui sarà un po' difficile, però 39 non ce l'abbiamo. Il 41, abbiamo il 42, che sfiga, e il 19, che non ce l'abbiamo. Poi il 27, niente. E per finire il 37. Bene, beh, 3.000 euro non sarebbero male, però vabbè, direi che questo grattivinci è perdente. Passiamo a quello nuovo. Allora, quello nuovo. Allora, facciamo che prima grattiamo il sopra, che è il banco. Praticamente dobbiamo superare la cifra, che è uguale all'altra, in poche parole. Abbiamo un re, bene, un altro re, e un 3. Per cui è praticamente 4. Dobbiamo superare il 4. Allora, vediamo la prima giocata. Allora, nella prima giocata abbiamo un 2. Scusate. Poi abbiamo un 2 e mezzo. E un 3. Per cui questo è perdente, perché dobbiamo superare praticamente 4. Seconda. Qui abbiamo mezzo, regina. Mezzo, ancora una regina. E due. Niente. Neanche questo. La terza giocata. E ma dai, ma sono tutti mezzi, mezzi, mezzo. Non riusciremo mai. E due. Bene. Neanche la terza, però, dato che sono curiosa, io voglio sapere i primi. Perché tanto questo qua è perdente di grattevinci. Ovviamente abbiamo 3 euro. Vabbè, 7.000. Sono numeri altissimi, per cui o ci andava di culo che vincevamo 3 euro, ma direi che... Qua il bonus, 4 e asso. Ovviamente numeri alti. Praticamente 5 abbiamo fatto qua. Ovviamente non c'è, per cui questo grattevinci è perdente. E vai! Quindi iniziamo bene il nuovo grattevinci che non ci porta neanche fortuna. Ok, direi che ci è andata male anche col grattevinci, praticamente quello nuovo. Qua non so che sta succedendo tra i giardinieri, l'ambulanza, cioè va a finire che non riesco neanche a registrare il video. Comunque scusate se ci sono rumori, però è così. Quando registro io il video, tutte le volte è sempre così. O c'è qualcuno, o c'è casino, o non so se lo fanno apposta. Vabbè, comunque niente. Questi due grattevinci sono perdenti, questa volta è andata male. Ovviamente, cioè, questo è un divertimento, è un gioco. Non è che lo faccio perché devo vincere per forza qualcosa. Cioè, ci mancherebbe. Se per caso vinco, che ne so, 20 euro, 50 euro, sono sempre soldi, è buono se vinco qualcosina. Però diciamo che anche se vinco un euro, due euro, cioè, l'importante è giocare e divertirsi. Non perché ho vinto, e allora, cioè, voglio spiegare questa cosa qua. Perché poi certi sotto nei commenti dicono, però, cioè, la felicità di vincere un euro, mamma mia quanti. Quindi, cioè, non è il fatto di vincere un euro, eccetera, ma il divertimento. Io lo faccio per divertimento, perché se no non lo facevo. Cioè, è meglio vincere qualcosina, anche se vinci un euro, due euro, è meglio vincere qualcosina che non vincere niente. Perché se no, dopo non puoi ricontinuare, diciamo, a giocare. Perché se vinci un euro, puoi ricomprare un altro grattevinci. Ad esempio, per farvi capire. Se invece non vinci niente, come, diciamo, questa volta che ho speso 5 euro di grattevinci, ma ne ho presi due. Cioè, se vincevo due euro, andavo a prendere un altro grattevinci e continuavo il gioco. Invece così, ovviamente, poi i soldi li devo mettere. Non è che mi sponsorizzo, cioè, io non sponsorizzo grattevinci o loro me li danno gratis, giustamente. Li pago con i miei soldi, per cui ogni mese spendo un tot di cifra. Ovviamente, il mese di agosto ho speso più di 40 euro solo per tutti questi grattevinci, per farli uno al giorno. E giustamente è normale che preferirei vincere anche un euro, due euro per continuare il gioco. Perché se no, poi... Cioè, però credo che avete capito. E spero di non ripetere ancora questa cosa qua. Perché ricevere dei commenti un po' così così, che è come se io devo per forza vincere. O, che ne so, anche solo per un euro, io lo faccio solo per divertimento. Perché se no, io questi video non li facevo. Ovviamente so che a voi piace questi video, vedo che tante persone piacciono, che li faccio. E allora li sto facendo, tutto qua. Perché se no, io potrei anche smettere. Perché se io faccio questi video e ricevo solo 20 persone che guardano questo video, ovviamente non lo faccio. Perché sono soldi poi buttati via. Invece così... Non perché YouTube mi paga solo facendo questo... Cioè, YouTube non mi paga niente. Per farvi capire anche su questo. Voglio essere, diciamo, sincera su questa cosa qua. Per cui ho detto quello che penso. E... Tutto qua. In poche parole, dopo ho detto questo, il video finisce qua. Noi ci vediamo al prossimo video. E vedremo se gli altri video andranno meglio. Per cui se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. Che così non vi perdete gli altri video che usciranno nella fine di agosto. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!